Salve a tutti e benvenuti all'appuntamento con le pillole dell'archivio storico Citroën. Come potete vedere dagli oggetti qui sul tavolo oggi parliamo di CX. CX per Citroën è stata una vettura che ha fatto davvero tutto. Berlina, limousine, ambulanza... si può dire che abbia guidato i Citroënisti in una lunga cavalcata verso la modernità. Si parte dagli anni 70 con i paraurti in acciaio e un allure vintage fino ad arrivare alle soglie degli anni 90 rivoluzionata nel suo aspetto e nelle sue soluzioni tecnologiche tanto da essere dotata perfino di ABS o di turbo. Oggi voglio parlarvi di originalità come ad esempio l'iconico posascenere che ha ornato i cruscotti delle Citroën CX. Questo pezzo di design è custodito qui da noi in archivio e a parer mio è bellissimo. Insieme a lui ci sono anche un sacco di libretti di cui andrò a parlarvi. Sono tutti libretti originali, non sono copie o riproduzioni fatti da noi ma originali dell'epoca custoditi e pari al nuovo. Parto dal più raro, il libretto della CX25GT Turbo, serie 1 edizione novembre 84. Questo libretto oltre a essere rarissimo è valido per un solo anno, fino all'arrivo della serie 2 nel luglio dell'85. Sempre hanno modello 85, un'altra rarità della gamma italiana e come potete vedere è il libretto della CX25GT e CX Prestige. È a colori naturalmente in italiano e splendidamente conservato. L'edizione è di ottobre 84 ed è valido sempre per l'anno modello 85. Abbiamo poi un libretto di più ampio respiro dedicato alla CX2L motore PRV, valido per tutti i modelli CX20, Pallas, Atena e Reflex dal 79 fino all'85. Quindi già questo è un libretto che copre più anni e più modelli, sempre pari al nuovo. Passiamo ora alla serie 2, quindi sono questi libretti qua bianchi e rossi, validi dal 1986 fino a fine produzione. Come vedete lo stile è più moderno, ci sono i nuovi colori Citroen che hanno caratterizzato tutti gli anni 90 fino ad arrivare a XM. I libretti sono rispettivamente dedicati a CX25 Diesel, Diesel Turbo e Limousine e CX20, 25 Benzina e Prestige. Sono assolutamente nuovi e per i vari modelli e i vari anni visitate il nostro e-shop dove potete trovare la descrizione completa e dettagliata oltre alle foto. Il costo dei libretti è di 25 euro ciascuno, tranne che per uno, quello dedicato alla CX25 GTI. Questo libretto data la rarità e la perfetta conservazione è in vendita a 45 euro. Insieme ai libretti, come ogni settimana, riceverete in omaggio la nostra custodia Citroen nera e rossa. Grazie per averci seguiti, l'appuntamento è a mercoledì prossimo con altri libretti originali, mentre per gli irriducibili della CX vi do anche un altro appuntamento. Questo venerdì sui nostri canali web andrà in onda la prima parte del seminario dedicato all'idraulica CX, come volare.